Sì, c'è un rinvio a giudizio già per questa querela, l'allarme della professoressa Di Cesare, del professor Canfora, l'allarme che viene lanciato oggi è un allarme rivolto al governo, perché secondo voi c'è proprio una strategia, un metodo, non sono semplici querele, sono querele politiche? Ma vorrei dire anzitutto due cose, la mia io non credo che fosse una sortita, io stavo argomentando sulla base anche dei miei studi, ho scritto un articolo per la Treccani sull'antisemitismo, sul razzismo, mi sono occupata del tema della sostituzione etnica e ho detto ha parlato da. Ora che le similitudini storiche vengano portate in tribunale io lo trovo molto grave e soprattutto molto grave che noi ci siamo accorti che non si tratta soltanto della mia questione, ma di quella di altri. Siamo qui in quattro, denunciati di cui due rinviati a giudizio e trovo molto grave che le questioni storiche, culturali, filosofiche diventino materia di tribunale e non come dovrebbero essere di aperto confronto democratico. Questo ci ha allarmato e quindi siamo qui a lanciare insieme all'Ampi, insieme ad articolo 21, insieme appunto alla Federazione Nazionale della Stampa che ci ospita, un allarme perché temiamo una urbanizzazione dell'Italia, cioè dove l'avversario politico non è più rispettato, non è più preso come un intervento. Dove lei dice anche le cose forti, scusate, così facciamo passi davanti. Un nemico da trattare, anche le cose forti e le similitudini portare in tribunale le similitudini diventa... Anche la critica politica molto dura, però è una critica fatta da intellettuali e sarebbe giusto che gli esponenti del governo rispondessero a loro volta. Un attimo perché vedo già poi i prossimi... Abbiamo purtroppo poco tempo, Cerno Manconi perché devo poi chiudere...